Ha chiesto scusa, risarcito l'ormai ex adatrice di lavoro e ha patteggiato la pena. Si è conclusa così, almeno per il momento, la vicenda dell'operaio infedele, sorpreso giorni fa all'uscita dal lavoro con dell'oro rubato alla ditta di pieva al topo per la quale lavorava. L'uomo, che era stato arrestato dai carabinieri e poi sottoposto all'obbligo di firma, ieri è infatti comparso di fronte al giudice per rispondere dei reati di furto e tentato furto. L'operaio, un aretino 53enne, ha presentato ai titolari una lettera di scuse e 2.000 euro di risarcimento. Ha poi patteggiato la pena nove mesi con la condizionale e 200 euro di multa. Per il 53enne le manette erano scattate lo scorso marzo, quando era stato sorpreso con 37 grammi d'oro ben nascosto dentro al borsello. Altri 418 grammi di metallo prezioso erano stati invece occultati in azienda, dentro alla macchina dove lavorava, pronti così per essere portati fuori pezzetto dopo pezzetto. Adesso l'inchiesta prosegue sul resto del manco denunciato dalla ditta e sulle modalità utilizzate dall'operaio per sottrarre il metallo prezioso all'azienda. Ma non solo, l'uomo in casa aveva nascosto anche 90 kg d'argento. Gli inquirenti adesso stanno indagando sulla provenienza di questo metallo.